Scala la scogliera sul mare ma rimane bloccato, recuperato a Stalettì. Disavventura al lieto fine per un uomo di circa 40 anni tratto in salvo dai Vigili del Fuoco dopo che nel tardo pomeriggio di ieri si era avventurato a scalare dalla spiaggia sottostante il costone roccioso della scogliera di Camminia nel comune di Stalettì. L'uomo in fase di discesa è stato preso dal panico rimanendo bloccato per alcune ore ad un'altezza di circa 15-20 metri. Allertati sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale e dell'istaccamento di Soverato con l'ausilio di un'unità specialistica speleo alpino fluviale che è riuscita a raggiungere il quarantenne. Assicurato ad un'imbragatura di sicurezza, l'uomo che è risultato in buona salute nella notte è stato riportato con una serie di manovre di tipo speleo sulla spiaggia della località balneare nel Catanzarese. Sul posto è intervenuto anche personale della Capitaneria di Porto di Soverato.